La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori, diceva chi come Bach ha aperto con le sue partiture il cassetto dei sogni. Così l'orchestra della Scala di Milano ha voluto parlare in musica e rilanciare il sogno di una rinascita post-Covid. Con un video appello, i 64 musicisti della filarmonica hanno invitato tutti, ma proprio tutti, a scaricare la partitura musicale e ad unirsi a loro domenica per suonare il canone di Pachelbel da casa. Chi non è in grado di suonare uno strumento può scaricare la versione pre-registrata dell'orchestra e sincronizzarla sul proprio stereo per partecipare al concerto di Pasqua dedicato ai medici, agli infermieri e a chi combatte la sua battaglia per i più bisognosi. Grazie a tutti.